Penso che per l'Accademia e soprattutto per i nostri studenti sia stata una settimana intensa e importantissima. Il fatto di aver messo i nostri studenti a confrontarsi, a relazionarsi con un artista di forma nazionale e internazionale questo giorno di workshop dia a loro quella possibilità di confronto e di crescita. È stata appunto come dicevo prima l'occasione per confrontarsi e capire come il sistema dell'arte sia così complicato ma anche così poetico. Ma quella parte appunto complicata che disconoscono sia la parte più importante. Aver utilizzato lo spazio del Marca come luogo ogni attività sia per loro un'opportunità meravigliosa.